Una cosa che mi piace molto, figli di Rohan, fratelli miei, questo non è il giorno di un uomo soltanto, ma di tutto il nostro popolo, verrà il giorno della sconfitta, ma non è questo il giorno, verrà il giorno degli scudi e delle madri, ma non è questo il giorno, oggi noi combattiamo per la nostra terra, mi invito a resistere, figli di Rohan. Grazie a tutti. Grazie a tutti.